Oggi parliamo di sostenibilità nel settore fashion e di competitività aziendale. Sempre più l'attenzione agli aspetti sociali e ambientali nell'ambito del fashion è una variabile competitiva per le aziende, riconosciuta dai consumatori ma anche richiesta dalle istituzioni. È quindi fondamentale per le organizzazioni impegnate in questo settore, intraprendere un percorso di cambiamento, una transizione verso modelli di business sempre più attenti al rispetto di diritti umani, a dare un contributo positivo alla società e a rispettare l'ambiente. Parleremo quindi di produzione, parleremo di materie prime, parleremo anche di abitudini di consumo e della destinazione che hanno investito una volta che hanno finito la loro normale ciclo di vita. È importante per le aziende quindi affrontare questa tematica lungo tutta la catena di fornitura. È importante un confronto delle partnership a livello settoriale che permettono di affrontare, secondo una logica più circolare, un settore che attualmente è ancora fortemente legato a modelli di consumo lineare e in alcuni ambiti, pensiamo in particolare al consumo di fast fashion, anche a quasi disinteressarsi rispetto alle conseguenze ambientali e sociali di quanto viene effettuato, di quanto viene prodotto. Quindi c'è di fronte per queste aziende un grande possibilità di cambiamento che è anche un'opportunità, l'opportunità di essere all'avanguardia, l'opportunità di poter competere più di altri in un mondo globale che sempre più vede le variabili ambientali e sociali come variabili competitive.